bella raga qua i panettieri siamo tornati incredibilmente e cosa c'è da dire partiamo con le presentazioni scusate qua c'è parra è tornato il nostro vecchio ospite ne abbiamo uno nuovo che vi presenteremo dopo soprannome guidatore di club qui è matriosca volante che parla presente anche gatto pardo qua cosa fa una gallega dentro una lavatrice in centrifuga le uova strapazzate presentiamo un po eccola qua ma no ma che cazzo mi campero in training questa è una partita di training veterano sta giocando un nostro amico guidatore di clemo questo video è fatto appunto per farvi capire quanto sia forte il guidatore di clemo qua a destra anton girati ma hai paura è qua fuori spara un altro spara oh mio dio mi fa me cosa è successo solo lui ma guarda che sono così scarsi sì veramente questa volta abbiamo fatto i progetti con le proiezioni ortogonali per vincere no mica sembrava alta la sensibilità cosa è che ci devo fare adesso parla 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 ci un po del nostro amico guidatore di clemo si sa ne pensi lui fa cagare guidatore di clemo come persona nella vita reale come persona fa cagare guarda vabbè è simpatica come persona però fa cagare guarda non c'è guardalo che gaffa urosa questo ti fa tagliare che personalità è dobbiamo ricordare che questo video è dovuto all'assenza di un nostro caro amico psn no ah no è il mister il ragazzo da ieri ciavattino è in vacanze ritiro spirituale in tibet crediamo hanno imballato pure lui parliamo del psn parla cosa ci dici del psn eh parla hacker di merda stiamo la colpa di hacker adesso eh no chi è se tu sei così bravo a essere un dio perchè non lo fai ripartire eh perchè voi vedete ho fatto bene io a farlo a farlo togliere l'hanno tolto hanno ucciso bin laden si sono rotti i coglioni che non potevano giocare alla playstation dove andiamo a fare black ops noi che l'hanno trovato in pakistan lì eh gli anni hanno ucciso bin laden operazioni speciali nuove che dio misericordioso tu sai non lo sai tu cosa succede a prestigio ha preso l'uovo oddio ma non è veterano no è veterano e dopo andiamo a controllare per me lui l'ha modificato va a vedere una kick va a vedere una kick è vero di solito si girano è appunto gli spari si girano sei morto guarda c'è la controllata fermi eeeh guarda la kick ho capito ho capito ho capito ho capito ma di qualcosa quanto devi devi mirare all'unico ma parloci di te ma parloci di te ma parloci nei tuoi hobby della tua vita della tua esperienza in carlofino farla vedere che lavoro fai eh eh io te riferimenti dai parlaci di te dai allora cosa devo dire cazzeggio 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 ti avevo appena detto è un cazzeggio facciamo il modello facciamo il modello per i pigiami che scuola fai? ragioneria c'era avuto pensare la troia guardalo è morto oh cazzo mi sono preso tanto vabbè quanti anni hai? eh quattordici no 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 facciamo una cosa aspetta aspetta intervista 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 vai 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 ma sempre a prima par vai no il dio fa le domande solo lui vai vai intervista no doppio deve essere i due amici allora vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua io li metto oh cazzo vabbè allora non sto facendo età ma che è finita la parte 14 anni 16 16 16 96 appunto ah si 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 giusto giusto spettacolo nome anton luca anton luca anton luca è il nome anton luca anton luca anton luca anton luca anton luca e pasquale e pasquale va bene occupazione cosa vuol dire basta chiusa non lo so finiamola qua che è anche finita la partita basta è finita finita oh anton chi era il primo presidente degli stati uniti stavo per chiedoglielo io il primo presidente degli stati uniti ecco eh non vale allora oh e tutti quelli che verranno qua allora di certo non era bush ok gli stati uniti esistono da molto tempo ok il primo il primo presidente ti do la prima lettera la v doppia v wow 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 waa 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 k ב waa 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 wğu che cazzo fa da finire la missione speciale di oggi sarà finire una missione speciale dopo la terza volta che morite me lo faccio bene che noi due siamo dei geni strano ma è brutto non si può sparare cioè devi stare insieme ma stai ma aspetta oh madonna stai dietro ma che faccia che cazzo ho oltre all'altro rapo un amico segui lo 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 altro non fa cazzare altro ma qual è parato le altre ho solo quello sopra allora poi lato filatore di clemore sovredi 4 io prendi 2 4 bravo vai ma devi aspettare uno gli ho fatto esplodere la testa ci sono addosso a aprir fuoco cazzo ci sono a fuoco oh cazzo oh cazzo eeeh minchia mamma che numero che numero ciao anton ciao ma se c'ho la fame ne vado si veramente fa me ne vado anch'io basta me ne vado me ne vado oh ragazzi sembra che ho preso e tirato sulla cazzo oddio e mi sei oh ma muoio no oh ma che cosa ti spari coglione ti scavaglio ho perso il cecchino ti scavaglio eh oh minchia questo è stupendo cosa qual è il piatto gastronomico preferito degli spazzini no spazzacamini spaghetti alla carbonara c'ho la lancia da granate guarda che io ti ho fatto un danno avanti quel libro lì eh occhio hai un cane lì cazzo fai eh ho usato il lancio bravo parco che mi sei da fuori cari mastardo si uscì cos'è stato? se stavolta mi sa che non lo vedo parca troppo ma perchè ti fai... parra se ti vuoi ammazzare che cazzo ti fai sgavare te? come sgavare? c'è un cane che mi sta salendo e mi fa sgavare ultima opportunità dai 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 qual è il re più amato di tutti i tempi? il re lax oh che cazzato sto libro non affidato parra commentaci questa barzelletta voglio sentire il tuo commento eh anch'io faccio degli errori purtroppo purtroppo a creare Giorgio non ho capito è stato veramente l'errore per me mi ricordo la tua battuta della matica oscala del life ah la ce la stai ah ecco la tua è bellissima grazie oh che marca sui preami non sono sicuramente evercromi ah ok visto che te sei tanto fissato di scuola un teschio oh ma anche le mutande ce le ha evercromi no no non ce le è le mutande no anche il parrucchino di evercromi dovete sapere che ha una volta chioma la cazzola alla Disney Channel come già detto in passato Disney Paso c'è qui il nostro naso rosso molto silenzioso ma perchè in realtà vuole preannunciarvi sul suo prossimo video no parlaci un po' che video? cosa caricherai? quello che sto salvando adesso no nel video porno ho fatto no raga ho fatto secondo montaggio del Napoli dura 9 minuti interessa a tutti eh non c'è nessuno no ragazzi questo farà migliaia e migliaia diviso di per sé oh se non ne fa migliaia così sei un migliaia segnatevelo se non fa migliaia lo mettiamo fuori dalla squadra Anto spara lo mettiamo lo mettiamo a mettere il vento al party tu spara quella sinistra fidati di me Anto spara 1 2 3 ma sparagli bene? è morto mica l'ho ucciso io ma devi cadere per morire cioè cadere? cosa c'è? stava cadendo poverino se uno cade muore oh mio te muore vai Rappa capofinto capofinto segni parra vai vai è un pazzo oh bell'amore dai siete bravi oddio vai parra quello scarso è l'ultimo tentativo scatto ви d'agzo spara 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 e poi Frank vi andiamo i giochi ok ok adesso ora adesso naso rosso e gatto pardo ok ok naso rosso e sopra gatto pardo vabbè cioè sto giocando e va pedestrian naso rosso e sopra sole asseglie dai sei scemo che cosi ho aggiunto ma secondo me sto sparando quick scoop vuol dire bello vedo un player ma non vedo dove ah voi avete solo una chance ma cosa sono più bravi non l'abbiamo mai fatta dai pari parlo andiamo 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 io a destra aspetta devo mettermi in posizione ma tu dai concentrazione per lui 3 2 1 non l'hai uccido ok ok cosa state commentando cantatore e parra cantatore e parra sono gay cosa? minchia parra l'hai visto? sto cazzo oh è la seconda volta oggi ragazzi basta oh vieni qua non lo metto più niente basta oddio oddio mi hanno visto non è vero sto scherzando ah 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 gero sei morto si leggermente ma non mi rende male cambialma cambialma cazzo questo cazzo che cazzo e minchia genero porca madoi oh vabbè raga qui le partite son finite e salutiamo i nostri due cari ospiti e e cosa dire preghiamo al più presto per il ritorno c'è il gatto pardo che è una silenzia chiamato sentite la sua disperazione vabbè ragazzi vogliamo una chicca finale dal nostro parra non disperare giorgio una chicca finale dal nostro guidatore di claymore questo è ha detto tutto non sono così nabbo come pensiate come pensiate? sono un ragioniere basta finito e con questo finiamo il video ci vediamo al prossimo ciao